Allora, ero dell'idea che il video di questa settimana sarebbe stato uno dei video di cui vi ho parlato nel precedente vlog. E invece no. Oggi è mercoledì 27, io dovevo essere al lavoro fino alle 4 e mezza, invece adesso sono meno 10 alle 4 e sono a casa e vi starete chiedendo il perché. Bene, vi ricordate cosa ho detto nel video precedente sul pigiama di Manuel? Che non l'aveva mai messo, che l'avevo comprato nel caso servisse? Ecco. Manuel in questo momento è in pronto soccorso che si è fatto male. E io sono agittatissima. Io sono appena arrivata a casa che ho recuperato i bimbi, anche perché in pronto soccorso con il discorso covid non mi lasciano entrare. Quindi ho recuperato i bimbi, siamo venuti a casa e adesso lui sta ancora aspettando di fare i raggi. Gli ha fatto intanto il tampone che è negativo, però ha altre persone davanti e quindi lì che sta aspettando. Inutile che stia fuori a prendere freddo e basta. Dovevo recuperare i bimbi, siamo venuti a casa e poi appena mi chiama andiamo a recuperarlo. Intanto cerchiamo di capire cosa si è fatto. E intanto mi sto mettendo a sistemare le lavastoviglie che ho caricato stamattina. E una dritta, una dritta vuole andare, una dritta per favore. Ecco, se non altro Atos che è rimasto a casa da stamattina alle 8 e mezza fino ad ora, fino ad ora non ha combinato niente, è stato bravissimo, mi ha mangiucchiato un po' un tappeto, ma chi se ne frega. E pace. Passerà, sto periodo passerà. Ho Alessandro che sta facendo i compiti, che è preoccupatissimo, mi ha chiesto se anche lui è andato in ambulanza, cioè si è un pochino spaventato e quindi è sovraecitato. Tommaso è sovraecitato di conseguenza. Io ho preso in mano le telecamera perché ho bisogno di parlare con qualcuno, anche se non c'è nessuno a rispondermi, perché io quando l'ho sentito che l'ho chiamato lì in pausa pranzo, sono andata via con i sentimenti, ovviamente anche perché lui non mi aveva chiamato per non farmi agitare e l'ho chiamato io per sentire sì come andava la giornata e tutto quanto, prima di riprendere e lavorare. E quindi, surprise, surprise. Cosa stai mangiando? Amore? Tommaso? No! Come no? Cosa stai mangiando? Lo yogurt con la marmellata di mirtilli. Prova a dire yogurt. Ehi! Tommaso! Spengo? No! Dai! Va avanti con lo yogurt e allora avanti. Perché? Perché? Ecco, nella fase di perché. Perché bisogna mangiarlo tutto. Bene, sono le quattro e mezza quasi e Manuel mi ha appena scritto che ha fatto i raggi ma ovviamente non gli hanno ancora detto niente. Adesso sta ritornando in pronto soccorso che deve fare la visita con i raggi e poi gli sapranno dire qualcosa. Comunque mi ha scritto che gli fa parecchio male e non riesce nemmeno, fa fatica a camminare. Allora, mi ha appena chiamato mia suocera che lavora vicino Fatalità all'ospedale quindi me lo porta a casa lei. Si è rotto la settima costola. Com'è? Si pensava? Sì, adesso guardiamo quello che vuoi. Basta che fai il bravo. Dovete fare i bravi perché papà sta tanto male. Tanto, tanto male. Ok? No. Sì, amore, papà sta tanto male quindi dovete stare tranquilli, bravi e sereni. Perché? Perché se no le mamma le ricoverono. Se no, lì non gli amici del rei su Disney News. Cosa ho appena detto? Dicevo che la mamma le ricoverono. Non per covid ma per esaurimento nervoso. Guarda che cadi. Dove sono le tue scarpe? Si può sapere dove avete messo le scarpe? Su. Su dove? Ma no. No. L'albero resta. Dovevamo togliere lo sabato ma l'albero resta. Giovane guarda che vale anche per te. Guarda che vale anche per te fare il bravo. Fare il bravo e non saltare assolutamente su al papà. Hai capito? Hai capito? Hai capito? Che non bisogna saltare addosso al papà. No mamma. Cosa c'è? Cosa devo farne di questo? Cosa devi guardare? Topolino e gli amici del rally. Si. Però guarda che è andato sotto lì. Hai capito? Hai capito? Naso. 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 Piano. Sì. No. Cis. Ciao malattino. C'è il tuo naso. E allora? Cosa ci racconti? Dai che poi fra qualche anno ti riguarderai e riderai di questi momenti. Non si può raccontare. Eccolo. Non si può. Ai. Eh. Filmare. E' un po' di questo. E' un po' di questo. E' un po' di questo. E' un po'. E' un po' di questo. E' un po'. E' un po'. E' un po'. E' un po' di questo. No. Sì. Bene. Andiamo a cambiare le sapete. Chi è che alle 4 ha iniziato a far casino stanotte? D'ora che è. Chi è che alle 4 ha iniziato? Oh 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 oh. Così più o meno. No, ritrovavo le posizioni. Bianca adesso non l'ho trovata. Siamo drurivare mamma Mi dica Siamo drurivare Ma mi dica Siamo drurivare Ciao E' matta E' matta Buongiorno Allora ragazze Sta malissimo Io adesso sto portando Tommaso da mia mamma Alessandro è già arrivato col pulmino E devo andare al lavoro E spero di finire presto Anche se ho i miei dubbi Perché siamo una ragazza in meno E quindi Ho già imbastito la cena per stasera E a casa è tutto sistemato Manuel deve solo star fermo Cosa che non gli riesce molto bene Bene Bimi sistemati O meglio sistemato Tommaso che adesso Fila a letto Sistemato Alessandro E corro al lavoro Incrociate le dita per me Per favore Adesso intanto sento il malattino Come sta Hai sonno? Hai freddo? Hai freddo? Un pochino si Metti le mani in tasca Ma che ti ho finito a filmarmi? Se non vuole farmi un soufflender Se devi filmarmi Cosa stai facendo? Sono detto almeno come Ecco lo spaccante Andiamo in ospedale amore È arrivato l'ultimo Ce la faremo a registrare anche questo Buongiorno Allora Allora Ieri poi Mi sono dimenticata La telecamera In macchina Quindi quando ho finito Non ho più registrato Anche perché dovevo correre a casa A vedere come stava appunto Manuel A vedere un attimino i bimbi Cosa stavano combinando Visto che lui non ci può Non può fare praticamente niente E adesso siamo di nuovo In ospedale Perché è venuto a ritirare Il dischetto Del Il dischetto dei raggi Che gli hanno fatto l'altro giorno In pronto soccorso Stamattina Si è È uscita la Si è rigonfiata È uscita la botta Però Sembra stare Un pochino meglio O meglio Secondo me È perché adesso ha fatto Effetto dell'antidolorifico Lui dice che Secondo lui Adesso starà meglio È molto fiducioso In realtà appena passa L'effetto dell'antidolorifico Sono due giorni Che sta Malissimo Tutte Allora Ieri mi sono dimenticata Completamente Di chiudere Il vlog E lo chiudo oggi E penso che domani Se riesco Mi metto anche a montarlo E se riesco Ve lo faccio uscire Un po' prima Non abbiamo fatto niente Di particolare Se non Se non facendo Di casa Però dovendo fare Da sole Tutto quanto Oggi Né oggi Né oggi Né ieri Sono riuscita A prendere in mano La telecamera Quindi chiudiamo qua E ci vediamo Nel prossimo video Ciao Di ciao No Di ciao No Bruta peste Mi da un bacino Almeno Mi da un bacino Almeno Ciao 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 Grazie a tutti.